dopo Bacciac stagnara dei serbatoi di gasolio la vediamo in versione elettricista mi diverto di più così eh eh sì taglia tutto demolitrice di cablaggi sale persino dentro le quaie questa è una barca che aveva di tutto e di più questo è l'ennesimo compressore sistema verbasto nera pieno è una cosa incredibile purtroppo va buttato tutto non si non si recupera nulla non si può riparare niente perché immersa nell'acqua di mare nulla via procediamo questa è tutta la roba smarchata da reboundo per il momento il potere della leva torna sempre utile anche quando quando bisogna allentare i prigionieri per disassemblare i due mancioni leva può alzare il mondo si si buon lavoro grazie e come scrivo anche nel tutorial per svitare una vite bloccata dopo averlo scaldato con la lancia ho versato un po di acqua per creare una uno stress affinché le due parti si modificassero meccanicamente e di fatti adesso il dato si svita si può fare si può fare si deve fare siamo qui alla pesa del cablaggio elettrico di rebound questa è solo una parte dei cavi che abbiamo tolto siamo quasi a 80 abbiamo sopprato 80 kg cablaggio mi hai provocato e io ti distruggo adesso ma 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 ma